Il Duomo di Amalfi è il monumento della questiera amalfitana più conosciuto nel mondo. Dedicato a Sant'Andrea Apostolo fu costruito nel IX secolo. È una vera e propria opera d'arte, una gioia per gli occhi con il mosaico raffigurante il Cristo in cima ad una suggestiva scalinata, ricco di forme e luminosi colori che ricopre la facciata della cattedrale. Splendido il campanile romanico rivestito di maioliche a mosaico, oltre il portico si trova alla porta d'ingresso al Duomo in bronzo proveniente da Costantinopoli. All'interno del Duomo da vedere il crucifisso ligno del XIII secolo, la tela del martirio di Sant'Andrea e la croce di Madre Perla portata dalla Terra Santa. Nelle teche è allestito il Museo di Ocesano nel quale è esposto il tesoro della cattedrale, tra gli altri pezzi una mitra angioina ricamata con gemme, oro, smalti ed un pavè di 19.000 perline. Da non tralasciare il chiostro del paradiso destinato a cimitero dei nobili amalfitani. Preziosissima è poi la magnifica cripta dove è custodito il corpo di Sant'Andrea, il primo discipolo di Gesù e santo protettore di Amalfi. Sotto l'altare centrale in marmo pregiato è custodita l'urna con le sacre reliquie. Amalfi, in provincia di Salerno, dista 72 chilometri da Napoli. Dall'aeroporto internazionale di Capodichino prendere il bus Alibus fino alla sezione centrale. Dalla sezione di Napoli centrale raggiungere in tassì o in treno il varco in Macolatella e da lì un bus Sita direzione Amalfi. In alternativa si può scegliere un treno regionale che conduce alla sezione di Salerno o la circunvesuviana che porta a Sorrento. Da qui il bus Sita per Amalfi. Via Mare, dal molo Concordia ubicato di fronte alla sezione ferroviaria, partono degli adiscafi veloci per Amalfi. Da piazza Giuseppe Garibaldi a Napoli lungo via Ferraris prendere la A3 Napoli-Salerno sino allo svincolo Vietri sul mare, seguire poi la strada statale 163 Amalfitana direzione Amalfi.